Benvenuti al fronte, fratello! Benvenuti al fronte. 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 Ce l'hanno portata via! Non c'è 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 l'hanno portata via! Stiamo spingendo il nemico fuori da questo settore! Non c'è l'hanno portata via! 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 Stai ricaricando ragazzi! Infiodateli su quella posizione ragazzi! Muoversi! Non c'è l'hanno portata via! Muoversi! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!